Praia Mare, nuovamente sconvolta da una morte improvvisa che forse si poter evitare. Antonio Castiello, 73 anni, da molto residente nella cittadina tirrenica, è morto in strada, colto da un infarto. L'uomo stava viaggiando a bordo della sua panda lungo via Verdi, una delle principali arterie di Praia Mare, quando all'improvviso, colto da un malore, ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro un'auto parcheggiata a bordo strada. Sono da poco passate le 17. Immediata la chiamata al 118 da parte di alcune persone che assistono alla scena, che contemporaneamente allertano un medico di base che ha lo studio a pochi metri dal luogo dell'impatto. Insieme a un volontario della Croce Rossa Praiese di passaggio, si effettua il controllo della pressione, ma non si può fare molto altro se non aspettare. Nessuno si azzarda a toccare o spostare l'uomo dall'interno della sua auto. Vengono allertate anche le forze dell'ordine, da lì a poco l'arrivo dei vigili urbani e dei carabinieri della locale stazione, che deviano il traffico e allontanano le persone ammassate intorno all'auto. Più che i soccorsi a raccogliersi intorno all'uomo sono dunque i passanti. Alle 18, circa un'ora dopo il malore, giungono sul posto i soccorritori dell'ordine di Malta da Diamante. L'ambulanza, medicalizzata di istanza a Praia Mare al momento, è impegnata in un altro codice rosso. I volontari dell'ordine di Malta si rendono subito conto della gravità della situazione, estraggono l'uomo dalla panda e lo posizionano sull'asfalto. Iniziano immediatamente l'interminabile manovra di rianimazione con massaggio cardiaco, durata circa mezz'ora. Alle 18 e 30, finalmente l'arrivo dell'ambulanza medicalizzata. Il tentativo di rianimazione prosegue. La gente, radunata davanti alla scuola materna di Via Verdi, assiste impotente a questa scena, alternando sentimenti di speranza e rassegnazione fino alle 18 e 40, ora in cui anche l'ultima speranza viene spazzata via e il corpo di Antonio Castiello viene coperto dal lenzuolo bianco.